Nel pieno dell'emergenza coronavirus, la Toscana guarda al futuro e dà il via al Digital Labs, laboratori pensati come strumenti di attuazione del testo unico del turismo, rivolti agli operatori e lavoratori del turismo. Ai laboratori è possibile partecipare online. I seminari saranno attivi da ora fino ad aprile, periodo in attuazione del decreto del governo con le misure di contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19. La piattaforma di dialogo virtuale è stata creata da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con la Regione Toscana e le associazioni di categoria del turismo. Dal 18 marzo e fino al 16 aprile, dal lunedì al giovedì, alle ore 15, sarà possibile seguire web conference della durata di circa un'ora ciascuna. 15 appuntamenti suddivisi in 5 moduli. Registrarsi è semplice attraverso il sito www.toscana-promozione.it La Regione Toscana ricorda che sono attivi dal 1 febbraio tre strumenti di accesso al credito per imprese e liberi professionisti che oggi più che mai possono avere bisogno di liquidità. Si tratta delle misure predisposte dalla Regione nell'ambito del pacchetto Garanzia Toscana. I tre strumenti hanno una dotazione totale di 38 milioni di euro così ripartiti. 21 milioni e mezzo di euro per la sezione speciale regionale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese. 10 milioni e mezzo di euro per il Fondo Regionale di Garanzia e 6 milioni di euro per un fondo regionale riservato ai contributi in conto capitale per l'abbattimento dei costi delle operazioni di garanzia.